...orberto Bianchi... ...pedana Eri Moral, finale primo e secondo posto... ...santa maschile, signores, categoria 85-95... ...si presentino Rasulov, Saligerei, Russo... ...Asogna, Fabio, Bianchi... ...a seguire, per il terzo e quarto posto, categoria 95-12... ...curva Lotti, Di Cane e Corna Tesseri... ...il cisto, viene! ...inita e stanno giocando... ...il cisto, Fabio! ...il cisto, Fabio! ...il cisto, Fabio! ...il cisto, Fabio! ...buona torta! ...quanto? ... À, ma te... ...il cisto! ...il cisto è RA. ...primo round, bianco. Dico pedana A, il medico alla pedana A. Il medico alla pedana A. Vincere il bianco per abbandonare la piazzata.